Bello ragazzi siamo i canans e siamo tornati qui con un nuovo video, oggi siamo con un nuovo quiz e oggi sarà su YouTube Italia Quanto ne sappiamo su YouTube Italia? Sarà su Trivia Kingdom, Trivia Kingdom, Kingdoms, Kingdoms, capito? Sì sì E dobbiamo giocare adesso, su YouTube Italia facciamo un avversario aleatorio e vediamo chi ce capita Allora, giochiamo contro Giulia D'Alessandro In basso a destra, con a sinistra Ok, chi è stato il primo youtuber a portare il format trollare su Whatsapp? Tyler Strikes Ok, vai Quali da questi canali chiama i propri iscritti Cagnacci Dally Mellow, il grandissimo Dally Mellow Vai, continuare, al centro, hai visto? Mi dovevo dare retta da solo dal primo inizio che volevo fare così Allora, Greta Menchi cambia continuamente Cazzo Dai Scusa, mi uscita Cambia continuamente il colore dei capelli Mi si chiama in realtà Matt e Bise, Matteo e Valentino Continuare Ma raga, ma li sapiamo tutte Ma è come sui Pokemon Ma sbagliamo, eh Vai Quali tu vedevi anche sui fanciarini Ecco Ah, mi dici chi sono? Doctor Vendetta I Rictube Dato Bugs Dato Bugs lo conosco Era uno De Mela Jimbo De Mela Jimbo Madonna Grada Menchino Dato Bugs Non me pare Doctor Vendetta Che culo Quali youtuber Si chiama Simone Giuseppe Chi è? Non lo so Cazzo Se mi mette la Jogger Io volevo dire Eren Blades Madonna mia Esculati Ma li so tutti Ma che stai a dire Sto a fa finta In sapelle Così ho fatto tutto Ninja Di dove è su Real Power E del Veneto Veneto Cioè quella più facile Dove è arrivare In tante parti Oh dove sta storia Che ha raggiunto Il primo milione di iscritti Su Youtube Italia Favij Questa è facile Quali è il video di Youtube Che ha fatto più views Dovrebbe essere Fuga di cervelli Dracula Dracula A te le domande La luna Ah se no perdiamo la corona Come si chiama Il fact time di Awed Come si chiama Awed risponde O Ask Awed Ask Awed Ah Awed risponde Oddio Lo metti a Ask Awed Non lo so regalo Sinceramente Era spuntato Perché ci ho capito Ask Awed Abbiamo perso una corona Adore A riprovare Dai Quali è il pronome di Favij Lorenzo 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 Diografia Quale cagnolina Di quelle tante Perché così Tu mi hai dato vieta Ad una cucciola Di 11 cani Ma che cazzo Ne so Sarà Peppe Non vale Che negli hook Ne stepney Uno qualche esclusione Cioè Destra Ure Lo sconto su FIFA Dread vs. Son Che ha vinto Ma che cazzo Se lo ricorda Dai Eh infatti Due a due Ma come se lo ricordavo Zero a uno per uno Quattro a due per tre Ma regà Ma non mi posso ricordare Com'è Quali di questi youtuber Si ha fatto una serie Chiamata behind the scenes Dove mostrare piccoli trucchi Per aumentare la qualità Di i propri video E come montarli Hai idea Sei ne quello sculato Se non è Dal nome Ma è da Blackjik Tutorial Non lo so Infatti è spedito Allora Qua possiamo Continuare con quello Che qua ci arrendo Strano eh Quanti cuccioli Ha partorito Il cane di Peppe Undici era Dai È grande Da quale youtuber Formata la ghost family Frax Bread Glau Anima Come si chiamano I componenti degli hmat Ti devi mettere Matteo Luna Qual è il cibo Per finito Su Piovescardi Il cazzo Il sushi Sushi Vai Culo Che vuol dire Sei un coglione Ma sei Quanto puoi essere Subito Ti avevo indicato Dio mio Non ce sto a pensare Che vuol dire Lo faccio per voi Ciccio gamer Come si chiama Sorella del break all eyes Virginia Perché sono la sorella Si fa pure i video Ma davvero C'è pure più scritto di noi Ma guardate La sabri gamer La cugina di Sasha Come avete fatto a credere alla stronzata che fossero cugini Ma io ho paura che penso Cioè veramente è questa la risposta Capito No no È una modella Ah ok Ok abbiamo fatto Dove abita Anima No abita a Milano Però era della Vigno De Genova De La Vagna De La Vagna La Vigno Che cazzo ne so Milano metto Perché non ha Cioè Ragazzi Se hai domande però Doppia chance vai Eh ma mi lascia Milano e Genova Guarda Vai con Milano Ok era giusta Quali da questi youtuber non è andata a social face Francesco Posa Nessuna di queste Meno male Scusa non ho mai visto social face Scusate Non lo so Ok È uno che gli piace quando fai foto Vai continuiamo Oh te indica Hai capito Te lo indica Quanti sono i gamers al cubo Quattro No Si chiamano gamers al cubo e so cinque Eh fannaccio Boh Che poi al cubo è tre Quindi perché hai messo quattro Perché in atto non erano manco tre Infatti boh non è Vabbè ragazzi Stessa logica loro Sì Scrivete gamers al cubo più due Ma ho prima C'è Cambiate nome Fate per sto favore Quali youtuber fa i cosiddetti bucaggi Nelle case ville abbandonate Matteo Montesi mi pare che è Sì Daie daie Pala il pirata Come si chiama il pupazzo di Stepney Wilson E' quello di neve Chi di questi youtuber non ha un secondo canale Favij Che ormai probabilmente non usa manco più nessuno il secondo canale Tutti quelli che c'erano Chi si chiama Stepney in realtà Stefano Stepney Stefano Lepri Lefano Stepney Lefano Stepney Nooo Questo è molto difficile Cazzo Quali il primo youtuber italiano ad aver portato i video con la realtà virtuale Froze Oh Se mi beccavo remancomo veramente me la andavo Quali youtuber ha fatto il chest opening più grande d'Italia Ciccio Gamer Come si chiama Favij Lorenzo ancora Sempre le stesse domande Rega Oh che culo Dai che forse siamo vinto Settiamo questo Quali da questi youtuber se non gioca a Clash Royale Charlie Moon Red Sodin Gabbo ce gioca Si Rade Charlie Moon Perché loro intendono quello Sì sì Davvero io non vedo più O Rade o Charlie Moon Sodin Mi pare sì Però forse è quello che no Proviamo Sodin No No infatti era Sodin Abbiamo vinto Abbiamo vinto ragazzi Ho fatto 0 punti per l'altro 5 a 0 Che schifo Giulio D'Alessandro Lascia verbo Sì infatti Segui youtube Mi sa Comunque ragazzi Noi abbiamo vinto Noi siamo più forti Ne sappiamo abbastanza perché abbiamo sbagliato poche domande Dai Su Porco cane Non so sta verbo Ma sta sul cervello Una botta allucinante Comunque Speriamo che questo video Mi sta mancando la voce Comunque speriamo che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciamoci in qui A like Noi ci vediamo Nel prossimo video Da canale Se è tutto Bella Ciao